da quel giorno fino ad oggi. Mi chiedo se proprio valgo così poco da non essere tutelato in nessuna maniera. A parlare è un autista di Arriva Udine, uno dei tanti ad aver subito aggressioni negli ultimi mesi. Quel giorno a cui si riferisce è circa un mese fa, quando guidava il Pullman in orario serale ed è accaduto un episodio che lo ha segnato. A bordo aveva un soggetto già problematico perché lo si vedeva che era evidentemente alterato da alcol, probabilmente sostanze stupefacenti. Ad un certo punto ha cominciato a creare scompiglio all'interno del Pullman, al che io mi sono preoccupato dell'oculumità dei passeggeri e mi sono fermato. Ho chiamato le forze dell'ordine, ma purtroppo le forze dell'ordine non possiamo assolutamente pretendere che nel giro di 5-10 minuti possa raggiungere un Pullman con un problema del genere. Pertanto dopo continue aggressioni verbali, pesanti, mi è stato detto che devo stare attento perché lui sa dove abito, che mi stermina la famiglia e che mi massacra di botte. Anche io, vista l'indisponibilità purtroppo delle forze dell'ordine, ho preferito chiudere le porte e raggiungere velocemente il luogo, la fermata dove questo signore, sapevo, sarebbe sceso. Lo sfogo è anonimo e spontaneo, ma ci fa capire chiaramente quanto sia pesante lavorare in quelle condizioni e con la paura addosso. Mi sento ancora oggi umiliato, ferito, perché mi chiedo ogni giorno, la mattina, quando alle 4 e mezza sono la sveglia per andare al lavoro, mi chiedo se vale la pena alzarsi, mi chiedo se vale la pena raggiungere il luogo di lavoro, salire sul Pullman e riprendere un'altra giornata di lavoro.